appuntato fedele buongiorno senta mi dicono che devo un po sondare la sua cultura vabbè a disposizione che ne so mi dica non lo so non mi viene che ne so l'ultimo libro che ha letto qual è l'ultimo libro che ha letto forza anche possiamo stare qua tutta la giornata sì questo io leggei rintintin lessi no rintintin lessi anche rintintin mi piaceva voglio dire da aggressivo diciamo rintintin e rintintin avanti un altro posso giusto il tempo che rifletto ha visto eh praticamente abbiamo di tutto su questo menù infatti senta se me ne può portare uno pulito che è meglio di tutto trovate ma è vicino il momento vinto madonna ma hai cercato di tutto di più ehi furia bella furia furia stai buona furia scusi padrone sì dove si mette la museruola dove si mette la museruola ma tu ti devo dire lo dici la parola stessa la devi mettere al muso al muso è la cazzuola pronto studio medico salchiappone mi dica non capisco dunque suo nonno in macchina non si sente bene? beh e ci mette l'antenna e scusi se suonano in macchina non ti sente bene ci mette l'antenna prego ciao fai schifo fai schifo a quest'ora ogni volta è una cosa veramente che io sono stanca non ce la faccio più domani trovi il garage chiuso con le cose chiuso dentro il garage e la roba tua tutto nel garage no guarda non ce la faccio più ogni notte ogni notte la stessa storia fai schifo hai capito il fatto com'è fai schifo tutte le sei tutte le sei e poi si può sapere che ora è sono è luna ho capito che luna non c'è bisogno di ripetere quattro volte eh ripetitivo eh zorro ti ho preso qua tu non sei zorro e porti la zeta e per forza io sono la zia la zia di zorro la zia di zorro ma poi c'è t'indale di qualche caldo va ciao va ciao va 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 O... 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 Grazie a tutti.